A questo punto vediamo un secondo algoritmo che si chiama Insertion Sort. E questo, vedrete, è un algoritmo efficiente per ordinare piccoli insiemi di elementi. Si basa sul principio di ordinamento di una mano di carta, e questo è un classico a cose che trovate in tutti i libri, cioè l'idea è che avete delle carte già ordinate, poi ne trovate una e le andate a inserire nella sua posizione, scorrete virtualmente finché non si inserisce nella posizione corretta. Voi probabilmente lo fate in maniera parallela, guardate tutte le carte inserite, ma in realtà potremmo dire che andate a scorrere. Quindi quello che succede è questo. Partiamo da un vettore come può essere 2, 3, 1, 4, 7, 3. Dopo c'è un esempio più specifico, ma parto da questo per farvi un esempio piccolino qua. Allora, l'idea è che se io prendo questo vettore, solo quell'elemento lì, il primo elemento, in sé per sé lui è già ordinato. Ok? Quindi non devo fare altro che dire, ok, la prima parte del vettore è già ordinata. Non è nella sua posizione giusta, ma il predito come sottovettore è ordinato. Quindi vado a vedere il valore 3 e vado a confrontarlo con il valore 2, che è l'ultimo del vettore ordinato. Se è più grande, allora 2 e 3 sono ordinati, e quindi questa parte è ordinata. A questo punto mi ritrovo l'1, ma l'1 è più piccolo di 3 e poi scopriremo che è anche più piccolo di 2. Quindi io quello che faccio è mi porto l'1 fuori, nella variabile tempo che vedete qui, e poi a partire da questa posizione che è j vado a spostarmi gli elementi nella posizione successiva. Quindi metterò qua il 3, poi il 2, e poi mi ritroverò uno spazio qui su cui vado a mettere l'1. e ottengo il vettore ordinato. Quindi vediamo un attimo il codice e poi guardiamo un esempio. Ho un indice i che va dal secondo elemento in poi, poi ho questa variabile temporanea che mi serve appoggiare un valore, che è il valore che sto cercando di inserire nella mano, che poi andrò a inserire in quest'ultima operazione qua, e poi a partire dalla posizione iesima, quindi dalla posizione che sto guardando, vado a ritroso, quindi parto da j uguale a i e poi tutte le volte faccio j uguale j-1 e vado a sostituire adj con adj-1 questa operazione, se j è maggiore di 1, altrimenti j-1 non ha senso, e adj-1 è maggiore di tempo. Ci ho provato un valore che è più grande. Facciamo vedere con l'esempio fatto bene, e così spero capiate. Allora abbiamo detto, 7 all'inizio è ordinato, sta da solo, lui è la vostra prima carta ordinata. Voi incontrate un 4, questo 4 viene trasportato nella variabile tempo. A questo punto l'idea è prendere il vettore ordinato, e finché il valore che vado a incontrare, 7, è più grande della variabile tempo, lo vado a spostare, metto il 7 qua. In realtà non l'ho cancellato da questa posizione, perché l'ho semplicemente sovrascritto nell'elemento successivo, perché vado in ordine inverso, in modo da non sovrascrivere elementi già visti. Quindi quello che succede è che dopo questa operazione, che è il ciclo for interno, sul forj, questa riga è il ciclo for interno, mi ritrovo col valore 7 in seconda posizione, ho finito, non perché sono arrivato in fondo al sottovettore, e quindi posso andare a scrivere il valore 4 qui. Quindi è come se ci fosse un trasferimento qua. Questa è la, diciamo, adj uguale temp nel codice. Ok, allora a questo punto ho questo sottovettore che ho ordinato, e ho questo valore 2 che devo decidere cosa farne. Lo metto nella variabile tempo, e vado a spostare, il 7 va a finire qua, e poi il 4 va a finire qua. Ok? E a questo punto ho spazio per scrivere il 2, e vado a scrivere 2, 4, 7. E vado avanti, 2, 4, 7, adesso ho ordinato. Mi ritrovo, devo farvelo vedere nella slide precedente, l'1 qua, che andrà a finire nel tempo che si ritrova qua, ok? E quindi quello che succede è che a questo punto sposto il 7 qua, il 4 qua, il 2 qua, e poi vado a scrivere 1. Ma non va sempre così, perché finora ho sempre trovato valori che sono effettivamente il minimo. Per esempio, cosa succede se trovo il valore 8? Niente. 8 viene trasferito su temp, ma 8 è più grande di 7, quindi non si fa sforzamenti. Si scrive temp nella posizione j, che è questa, operazione inutile, ma tanto controllare se farla oppure no costa tanto uguale, quindi tanto male farla, e mi ritrovo in questa situazione. Ok? E a questo punto quello che succede è che scusate, qua, il 3 viene spostato qui, ok? Sul temp, e poi inizio a scrivere, a spostare l'8 qua, il 7 qua, il 4 qua, e poi basta. Quindi mi ritrovo con questo 4 scritto due volte, ma siccome 2 è più piccolo di temp, non vado avanti, vado a scrivere 3 in questa posizione. Quindi volevo farvi vedere qui che non si va sempre all'inizio, a volte ci si ferma prima. Ok? E ho questo vettore ordinato. A questo punto trovo il 5, che mi va a finire in temp, e sposto man mano gli elementi, fino a trovarmi in questa situazione, 4 non è, 4 è più piccolo di 5, e quindi vado a scrivere il 5 qua, e ho ordinato il mio vettore. A questo punto, correttezza e complessità andrebbero, diciamo, dimostrate, magari in maniera più approfondita, di quello che farò adesso, nei pochi minuti che mi rimangono. Allora, dal punto di vista della correttezza, dovrei trovare un invariante, un invariante che mi dice che il ciclo che vado a realizzare è corretto. Quest'invariante di ciclo è basata sull'idea che, fino a una certa posizione, il vettore è già ordinato, e vado a ordinare l'elemento che sta in maniera successiva. Quindi facendo un'analisi più approfondita, e forse anche un po' noiosa, vado a dimostrare che tutte le operazioni conservano questa variante di ciclo. A questo punto vi chiedo, qual è il costo nel caso il vettore sia già ordinato? Qual è il costo nel caso il vettore sia ordinato in ordine inverso? E cosa succede in media, secondo voi? Provate a dirmelo. Sate il primo che fosse più semplice. E andate a vedere il codice. Lo ripulisco un attimo. Allora, Elena e Guglielmo, e anche Andrea, mi dicono che se è ordinato il costo è odn. Ok? Fatemelo ripulire un attimo, così ci ragioniamo un attimo sopra. Allora, hanno ragione, nel senso che tutte le volte che il vettore è già ordinato, quello che succede è questo. Se io ho all'inizio 1 e poi 2, questo valore 2 è quello che viene messo in tempo, tempo uguale a 2. e si va a vedere se a G-1, cioè questo valore, è più piccolo, è maggiore di tempo. Ed è falso. Quindi questo ciclo non ci si entra mai, se il vettore è già ordinato. Quindi si sta facendo solo questo ciclo senza questa parte e il costo delle parti che vedete qui è costante e quindi ripetere n-1 volte una quantità costante ci dice che nel caso ottimo, o meglio, nel caso il vettore sia già ordinato, che è il caso ottimo, il costo è lineare. Quindi rispetto all'algoritmo di prima, che era quadratico, il costo è molto buono. Poi Andrea dice, nel caso sia ordine inverso, n al cubo. Un qualche dubbio però, in effetti non è n al cubo. E anche altri, Enrico, ah poi Andrea aveva corretto, in molti di voi mi dite n al quadrato. E sostanzialmente se è decrescente, quindi se ho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, significa che il 7 dovrà essere portato fino all'inizio, il 6 dovrà essere portato fino all'inizio, il 5 dovrà essere portato fino all'inizio, portare fino all'inizio significa portare tutti gli altri valori, il 4 dovrà essere portato fino all'inizio, eccetera, eccetera. Il risultato è che il costo è di questo ciclo while, quello che adesso vado a ripulire, il costo di questo ciclo while è n-1, poi n-2, poi n-3, e otteniamo il stesso tipo di sommatoria che vediamo nel selection sort, ovvero questo particolare algoritmo, abbiamo detto questo di n nel caso il vettore sia ordinato in un ordine inverso, a costo n-2, quindi nel caso pessimo, perché questo costituisce il caso pessimo, perché i valori devono scorrere tutto il vettore, avrò n-4. Ora, cosa succede nel caso medio? Allora, qualcuno dice, secondo me anche il caso medio, questo è Alessandro, è n al quadrato, invece Claudio dice, il caso medio potrebbe essere n-n, visto come caso medio fra n-n al quadro. Allora, quest'ultima affermazione non è proprio, diciamo, appropriata, perché in realtà fra n-n al quadro c'è di tutto, c'è anche n-radice di n, c'è n per log n per log log n, quindi non esiste un caso intermedio fra n-n quadro univoco, ma ce ne sono tanti altri. Quel log n deve derivare da qualche proprietà degli algoritmi, che vedremo poi nel prossimo esempio, e in questo caso io questa proprietà non ce la vedo. Quindi sostanzialmente quello che succede è che informalmente alcuni valori, e questo però andrebbe dimostrato probabilisticamente su tutte le possibili permutazioni, capite che il calcolo è un pochino più complesso di quello che voglio fare qui oggi, per non spaventarmi in troppi, quello che, un modo informale per vedere è che alcuni valori dovranno scorrere magari fino all'inizio, o comunque dovranno scorrere una percentuale grande dell'intero vettore. Quindi, siccome però, n volte questa operazione di scorrimento, questa operazione di scorrimento potrebbe essere una percentuale grande dell'intero vettore, allora quello che succede è che il costo medio viene n al quadrato. Ma non ve lo sto dimostrando, ve lo sto solo dicendo. Quindi, nel caso medio, il costo è sempre n al quadrato. Quindi questo algoritmo funziona meglio di selection sort per questo motivo. Se siamo fortunati e il vettore è già ordinato, costerà o di n. Notate anche che se ci sono pochi cambiamenti, tipo 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, intendo pochi cambiamenti, poche inversioni rispetto all'ordinamento, il costo potrebbe essere molto basso, essere sempre comunque lineare, perché tanto devo scambiare solo questi due e ottenere un algoritmo, un vettore già ordinato. Quindi, in generale, se il vettore è parzialmente già ordinato, insertion sort potrebbe essere un'ottima idea. altrimenti costa tanto quanto il selection sort e quindi non c'è una particolare differenza. Ma siccome il codice è molto semplice, siccome ogni tanto si comporta meglio il selection sort, andremo ad utilizzare insertion sort e selection sort dopo oggi. Ve lo potete dimenticare, se non come esempio negativo di cosa non fare. Alla prossima